Te hanno un poco della macchinetta? No, è troppo buio. la barbara ora parlo a sotto la limita con l'amico del jaguaro che dai bisogna mettere un limite al numero la gente ne ha aspettato chi è il padrone qui è il CSA che mette l'Europa ma non se ne fa la propria è un'unica è rara la gente si sa quando cominciano a bagnare non si sa la gente si sa io l'ho aiutare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.